Il progetto formativo ProBiomed è sicuramente un'eccezionale opportunità che ho colto con tantissimo entusiasmo. Le mie aspettative sono quelle di integrare le mie conoscenze e quindi migliorare dal punto di vista commerciale visto che è il mio background scientifico. Mi sembra un progetto molto completo, ben strutturato e le mie aspettative sono quelle di poter completare la mia formazione universitaria, quindi poi utilizzare le conoscenze sul lavoro nella pratica di tutti i giorni. Spero di apprendere molte cose e spero di migliorarmi sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Lo sviluppo di un master in Management e Prodotti Biomedicali risponde a esigenze di professionalità in un settore in grande crescita, in un settore in cui ci sono dei profondi cambiamenti sotto il profilo regolatorio, delle esigenze di mercato, delle competenze delle aziende, dell'industria in generale e che in qualche modo richiede una formazione non solo di conoscenze, non solo di tecniche specialistiche ma anche di abilità e di comportamenti. Quando noi insegniamo ai giovani laureati noi abbiamo la preoccupazione di seminare un po' di approccio esperienziale. Quando invece insegniamo agli adulti che hanno esperienze ci dobbiamo correre il problema di dare schemi concettuali che consentono di saper leggere le proprie esperienze ed apprendere dalle proprie esperienze. La sanità è sottoposta a cambiamenti rapidissimi, gli scenari che si presentano davanti sono in buona parte difficili da prevedere ma il nostro ruolo è quello di cercare di dare un contributo affinché comunque l'evoluzione di questo settore, di questo mercato avvenga rispettando quelli che sono gli interessi dei pazienti, quindi dei cittadini e continuando quella che è la nostra missione, che è una missione certamente commerciale ma anche formativa ed educativa. Di conseguenza pensiamo che mettendo a disposizione le nostre conoscenze nel settore biomedicale, coniugata questa esperienza con la capacità didattica di un ateneo prestigioso come la LUIS, questo possa portare a un risultato ottimale e a dare una formazione di primo livello e di prestigio ai partecipanti. La nostra filosofia di fondo di un'università, che è un'università, come sapete, è un'università privata, che è un'università della Confindustria, che è un'università che è legata strettamente al mondo del lavoro, comunque sia imprenditoriale, sia istituzionale, eccetera, eccetera, è proprio quello di fare cose che in qualche modo siano utilizzabili. L'obiettivo non è insegnare per insegnare, l'obiettivo non è semplicemente sottolineare una competenza disciplinare che può essere interessante, utile, eccetera, eccetera, ma che deve in qualche modo portare ad un utilizzo pratico preciso. È una collaborazione quella tra l'università e l'industria estremamente importante perché alla fine porta vantaggio ad entrambi, non solo nella ricerca di base ma in particolare nella ricerca applicata, cioè nella validazione di nuove tecnologie o di nuove tecniche che vengono sviluppate. Questa collaborazione tra la Lewis Business School e Johnson & Johnson è molto importante perché porta alla creazione di un prodotto istituzionale per la formazione e quindi in un campo estremamente critico nella filiera della salute che è quello delle tecnologie biomedicali.